Che cosa ha creato l'uso delle lezioni o comunque della scuola in remoto? Ha fatto emergere delle forti disuguaglianze sociali. I dati sono allarmanti. Il 30% dei bambini e dei ragazzi in Italia non ha avuto accesso alle lezioni per mancanza a casa di strumenti quali tablet, computer, cellulari o connessione a internet. Questo particolarmente nel mezzogiorno. In particolare nelle regioni quali Calabria e Sicilia. Ma l'altro dato comunque che è importante è che il 40% delle famiglie possiede un solo strumento. Quindi o un solo pc o un solo tablet. E quindi vuol dire che in una famiglia numerosa questo strumento deve essere diviso tra i fratelli o tra i genitori. Poi, qual è un altro dato che secondo me possiamo mettere sul piatto? E questo è stato anche grazie ad Arabella che è qui con noi. E il fatto di quelli che sono i riti fondamentali di crescita dei ragazzi. Fondamentali ovviamente gli esami. Li abbiamo fatti tutti e sappiamo che cosa hanno significato per noi. E questo comporta le scuole elementari, le medie e le superiori. Ma anche un momento di incontro qual è la pizza di fine anno. O anche, come mi ha detto Arabella, la foto di classe. Interruzione delle attività extra, sport, corsi di musica. L'impossibilità di incontrare i propri amici, di una socialità fisica, di farsi una partita a calcio. E perché no, credo anche la convivenza con dei genitori H24 che sono attaccati a un computer perché stanno lavorando. Quindi anche, come dire, un rapporto, una visione della famiglia subita e vista in un modo diverso. Ora, ovviamente questo avrà sicuramente comportato del forte stress. E forse lascerà in eredità qualcosa a questi ragazzi. Oltre al grosso problema dell'uso eccessivo dei mezzi digitali. Che fino magari a cinque mesi fa un genitore diceva non stare troppo al computer. E ora effettivamente è diventato lo strumento per... è come affacciarsi alla finestra. Una domanda che noi possiamo anche farci oltre tutto questo. Ma i ragazzi, i bambini, vengono contagiati dalle emozioni degli adulti? Gli adulti cosa dovrebbero fare? Rassicularli? Nascondere la verità? In che modo possono accogliere quello che possono essere la paura, la rabbia e il disagio? Penso ovviamente che queste sono delle riflessioni importanti e per questo motivo abbiamo chiamato delle persone che in qualche modo, cioè tranne magari Marco, Boffi, però hanno a che fare tutto il giorno con le famiglie e i ragazzi. Per questo motivo magari darei la parola ad Arabella che può raccontarci la sua esperienza e anche alla luce di queste considerazioni può darci dei consigli. Però un attimo, Arabella, si è arrivato il dottor Nuara. Ciao Marco! Scusate, ho avuto qualche problema tecnico. È un topos dello Zoom. Vuoi che ripeto qualcosa? Sei riuscito ad ascoltarmi? No, penso di aver inteso quello che era il tuo pensiero. Allora, nella scaletta che avevo immaginato pensavo magari di far iniziare e nello stesso tempo magari prima non ti ho, visto che non c'eri, non ti ho presentato, quindi vorrei salutare Marco Nuara che è un pediatra perfezionato in neonatologia, immunologia, allergologia, gastroentrologia, pediatrica e omopossicologia di cui io non ne so niente. Se per caso te la senti, magari potresti iniziare tu in questa staffetta. Sì, vedete che prendo mia figlia perché è agitata. Altrimenti poi mi si agita. Allora, io penso che questa esperienza che abbiamo vissuto, al di là dell'aspetto medico che non voglio affrontare in questo momento è stata un'esperienza che ha sconvolto un pochino quelli che erano i nostri punti di vista il nostro modo di vedere la quotidianità, il nostro modo di vedere le nostre abitudini ma non solo per il fatto che abbiamo dovuto adattarci alle abitudini diverse ma per il fatto proprio che eravamo abituati a pensare la vita e la nostra programmazione del futuro in maniera diversa. Adesso ci parla del fatto che la gente vada alla ricerca di case fuori città con i giardini e le terrazze mentre magari prima la priorità era quella di essere magari città vicino al lavoro qualcuno pensa di cambiare lavoro perché questa situazione ha reso magari l'idea che il suo attuale lavoro sia precario o possa risentire di situazioni simili a quell'attuale. Quindi un pochino un'incertezza del futuro rispetto a quello che eravamo abituati a pensare noi eravamo abituati a pensare anche in ambito lavorativo a quello che avremmo fatto dopo mesi ma anche dopo anni perché intanto cosa doveva succedere? Per cui come quest'anno abbiamo fatto questa cosa la possiamo fare anche l'anno prossimo e la possiamo fare anche l'anno dopo ancora intanto non ci sarà motivo per cui questo nostro pensiero questo nostro programma potrà essere sconvolto e invece abbiamo scoperto che non è così insomma che le nostre certezze possono essere sconvolte da una situazione che non era assolutamente ipotizzabile. Quanto a quello che dici tu sul discorso del contagio delle emozioni io ho scritto anche un articolo un tempo fa sul contagio delle emozioni da parte degli adulti e assolutamente l'adulto secondo me deve contagiare il bambino con le proprie emozioni anche perché in realtà noi possiamo non trasmettere al bambino le parole ma le emozioni che le passiamo lo stesso. Quindi secondo me sai al di là di quello che puoi raccontare ai bambini i bambini percepiscono benissimo quelle che sono le nostre emozioni e quindi il fatto che il bambino possa percepire che noi a parole diciamo una cosa ma poi con le emozioni e con il nostro comportamento ne comunichiamo un'altra questo può risultare ancora più di confusione e di ansia per il bambino. E penso che ugualmente a come sono cambiati un pochino i nostri punti di vista e le nostre certezze ugualmente questo è successo per i bambini anche per i messaggi che gli abbiamo dato noi. Noi siamo passati dal dai un bacio al nonno, dagli un abbraccio al per carità di Dio non avvicinarti al nonno, stai lontano e ugualmente siamo passati dal come dicevi tu non usare troppo tempo il device al ah porca miseria guarda il device, stai via, stai attento, usalo bene perché serve per la scuola guarda, verifica se non sono arrivati compiti nuovi e così via. E quindi anche questi messaggi che sono in contrasto rispetto a quello che vivevano prima li mette in confusione. Pensa anche al fatto che prima magari il genitore era meno presente ma quando era presente era disponibile. Adesso il genitore è disponibile magari tutto il giorno perché fa smart working ma è un continuo rifiuto da parte magari dell'adulto di potergli dare attenzione perché il bambino adesso che ha a disposizione il genitore lo cerca paradossalmente più di prima perché prima non ti aveva, adesso ti ho qua ogni 5 minuti ti chiedo di darmi attenzione e adesso si trova a dover avere a che fare con un genitore, un adulto che rispetto a prima adesso non è più a sua completa disposizione in quei momenti che è presente. Quindi sono tutti i messaggi che sono in contrasto con quello a cui erano abituati. Quello che secondo me dobbiamo garantire ai bambini è il fatto che loro erano abituati che una certa, così come eravamo abituati noi, che una certa routine, una certa abitudine gli dava una sicurezza. Cioè sapevano che cosa sarebbe successo dopo. La routine giornaliera ma anche la routine della settimana, il mantenimento di determinate abitudini se riusciamo a mantenerlo mantiene il fatto che il bambino sa cosa aspettarsi non solo il giorno dopo, la settimana dopo ma anche nelle ore successive cosa che in questo momento è un pochino sconvolto del sconvolgimento dell'abitudine. L'altra cosa è che sicuramente non possiamo negare ai bambini la presenza del coronavirus e determinate situazioni o attenzioni ma bisogna riuscire a passare al bambino un messaggio che sia più rassicurante rispetto al fatto che sia terrorizzante o ansiogeno. Per cui è inutile andare a dire a un bambino che c'è in giro un virus invisibile che può farci del male o può fare male alle persone care. E di stare attento perché intanto non riesce a visualizzare l'idea di questo virus. Poi intanto che cosa lo visualizza a fare? Che tanto è invisibile, la piccolina non riesce quindi a realizzare la concretezza. Possiamo invece dirgli che c'è una brutta influenza come quella che lui aveva fatto l'anno prima che però è più brutta di quella dell'anno prima. Si ricorda come era stato male l'anno prima? Questa è ancora peggio. E quindi non vogliamo prenderla perché non vogliamo stare male come l'anno scorso e che non vogliamo passarla al nonno. Così il nonno starà bene. Questo è un modo diverso di raccontargli la stessa situazione ma che è rassicurante per il bambino e non è invece ansiogeno. Poi ovviamente noi dobbiamo comportarci di conseguenza rispetto ai messaggi che trasmettiamo perché altrimenti ovviamente non siamo credibili. Io piuttosto sono spaventato più che dall'uso dei device da il messaggio che trasmettiamo ai bambini soprattutto i bambini che entrano adesso nella socialità. Cioè i bambini che bene o male, non so, i miei figli vanno a elementari sanno qual è la realtà e la quotidianità e sanno che questa è una situazione a sé stante. Il bambino che invece magari si avvicinava alla scuola materna, all'asilo e quindi cominciava a socializzare adesso è in una situazione in cui dovrebbe socializzare ma a distanza. dovrebbe mostrare emozioni, partecipazioni, affetto ma deve stare a distanza. Il bambino generalmente quando è timido e spaventato cerca il contatto. In questo momento invece se lui ha un'incertezza, un timore, deve stare a distanza. Questo è sicuramente un messaggio difficile da gestire per il bambino così come il rapporto con i nonni per quelli che erano abituati ad avere un rapporto con i nonni. Bambini che erano abituati a vedere magari anche quotidianamente i nonni perché erano affidati ai nonni. Adesso è una figura che per loro era fondamentale, era per molti tra loro quotidianità. Scusa Marco, questa cosa che hai appena detto io non avevo, cioè effettivamente è una cosa che non avevo mai riflettuto perché io ho sempre visto la prospettiva di un bambino, di un ragazzo che in qualche modo cambia una prospettiva. Perciò da che una cosa si poteva fare all'improvviso non si può fare più. Ma non avevo mai pensato a chi sta ricevendo un imprinting. E quindi rispetto a questa situazione, se questa situazione comunque durasse a lungo, cambiano. Quali ci saranno gli effetti? Però noi ci ritroviamo a insegnare ai bambini questo tipo di realtà che poi speriamo di sconvolgere domani. Però in questo momento a questi bambini gli stiamo dicendo che deve stare distante dal suo amico, che deve stare distante dal nonno, che deve vedere un po' con diffidenza l'altro e l'amichetto. Deve stare a distanza perché non si sa mai che magari ci può passare una malattia, che comunque dobbiamo mettere la mascherina per proteggerci perché quella persona lì magari non è il caso che la frequentiamo. Insomma, è un'educazione all'affettività che generalmente gestiamo in maniera completamente diversa da quello che dobbiamo gestire adesso. Adesso se uno deve avere a fare sport, favorisci lo sport individuale e non quello di gruppo. Invece di solito magari cerchi di favorire quello di gruppo per favorire la compartecipazione. Adesso anche il discorso che possano riprendere le attività dei centri estivi o degli asili o delle materne perché se la scuola ormai non riaprirà più, anzi vedremo a settembre come riaprirà, per garantire i genitori che riprendono a frequentare il lavoro e se vogliamo veramente preservare i nonni, questi bambini dovranno essere introdotti in qualche modo in dei centri educativi. E la mia preoccupazione era che, ecco, uno di non vedere quello che abbiamo visto in alcune foto, cioè i bambini nel cortile con il cerchio di gesso attorno in modo che sanno che devono stare lì, non possono uscire da lì, e neanche di vedere queste maestre con la mascherina sulla faccia perché non è possibile. Il bambino piccolo ha bisogno sia lui di poter trasmettere sia una verbalizzazione, una comunicazione verbale sia una comunicazione non verbale, ma anche di ricevere una comunicazione non verbale. Cioè una maestra con la mascherina sulla faccia è una maestra incomprensibile per grandi tratti. Per cui spero che gli neuroni a specchio, cioè non sono più in grado di praticamente imparare e decifrare le emozioni che comunque si leggono attraverso la nostra mimica facciale. Certo, e anche fra di loro, perché non è che tutti parano lo stesso livello di comunicazione verbale, soprattutto i piccolini, e quindi la possibilità di confrontarsi anche con quella non verbale è fondamentale. Per cui spero che almeno gli educatori che possono essere in grado di gestire questo tipo di dispositivo usino le visiere in modo da poter trasmettere anche la comunicazione non verbale ai bambini. Bene. E Arabella, mi sembra che, come dire... La mascherina sui piccoli invece non è necessaria. Cioè il bambino sotto i tre anni, quattro anni, cinque anni, al di là del fatto che la mascherina è necessaria per proteggere la comunità e non il bambino, ma in una situazione in cui il bambino comunque è piccolo, quindi non è in grado di gestire in sicurezza la mascherina, perché un bambino che comunque continua a toccarsela e o tocca quella del vicino, è meglio non metterlo. E non mettendolo poi riusciamo a garantire quella socialità che altrimenti verrebbe meno. Però una domanda, i bambini comunque possono prendere il Covid anche se non manifestano i sintomi e possono trasmetterlo? Sì, come gli adulti. Ok. Per quanto la letteratura attuale, e per quanto ne sappiamo adesso, perché è tutto sempre improntato su quello che sappiamo adesso, sono più gli adulti che contagiano i bambini che i bambini che contagiano gli adulti. Ok. Quindi, nonostante tutto, magari si può anche entrare di nuovo in un giro di contagi incontrollati. Stiamo entrando in questa direzione, comunque, perché non possiamo permetterci comunque una situazione differente. Dovremmo convivere con questo Covid sperando che o muti o sia tenui o di trovare dei farmaci che ci permettano di gestirlo. Non abbiamo grosse alternative. Anche l'idea di un vaccino va bene, è una possibilità, ma prima di un anno un vaccino non ci sarà comunque. Credo che anche l'idea di determinare... che non muti in peggioramento, perché altrimenti anche lì il vaccino poi non serve a questo. Bene. Quindi dobbiamo imparare a convivere con queste situazioni. Sì, non per forza con le mascherine, ma con il Covid, con la malattia e o con la possibilità che una situazione di questo tipo si possa ripresentare in futuro. Sì, che è quello che comunque, in qualche modo, se non è il Covid, saranno altre, magari, epidemie, perché comunque c'è anche una rastretta relazione tra questo tipo di pandemie e comunque il modo in cui noi, diciamo, viviamo su questo pianeta. Sì. Quindi se manteniamo anche certi stili di vita dobbiamo immaginarcelo. Poi in un mondo globale e connesso con queste megalopoli è una cosa... sono degli scenari assolutamente immaginabili. Quindi magari è il caso che, invece di pensare nell'optica di un'emergenza perpetua, si incominci magari a strutturare una società e un futuro, sapendo che sono delle situazioni che dovremmo magari affrontare ogni totto di tempo. Anche perché così evitiamo anche... Sì. Grazie Marco. Penso che Arabella, in questa staffetta, già può agganciarsi tranquillamente, perché anche Marco ha messo, diciamo, delle riflessioni, delle cose sul piatto, anche rispetto anche alla mia introduzione, quindi ti lascio tranquillamente la parola e ti vedo pronta a raccontarci qualcosa. No, nella realtà ho provato a prendere due... proprio nota degli spunti tuoi nell'introduzione, o magari mentre parlava Marco, eccetera, perché mi risuonavano rispetto all'esperienza diretta. Allora, in realtà i ragazzi con cui abbiamo maggiore esperienza sono un po' più grandi dei bambini, ai cui sono bambini, ma è un piccolo nucleo, la maggioranza sono ragazzi delle medie, degli superiori, per cui è un target ancora diverso. La cosa interessante è davvero che per ogni età c'è un approccio e una percezione di questo tutto il tempo vissuto a casa molto diverso. Sono sicuramente d'accordo con Marco quando diceva che gli adulti rispetto anche al vissuto dei bambini devono un po' farsi carico e provare delle modalità per aiutare i ragazzi ad avere delle parole che spieghino o che permettano di interiorizzare questo tipo di esperienza che è veramente stata così, disarmante per tutti. La riflessione che facevamo in equip è che mentre nella maggior parte dell'esperienza di relazione, eccetera, o comunque senza anche di vita che riguardano i nostri figli o i ragazzi che accompagniamo, facciamo quasi sempre riferimento alla nostra esperienza personale di quando avevamo la loro età. C'è tantissime volte anche Giulio dicevo io la nonna tra un po' lì dentro però come dire abbiamo un ricordo di cosa ha voluto dire avere 16 anni e dover rimanere più in casa. No, per noi è un anche per noi adulti è un'esperienza completamente nuova non ci siamo mai trovati a viverla nella loro età e il modo proprio per tutti quindi è oltremodo difficile dare una mano ai ragazzi anche se è fondamentale perché le informazioni che saranno almeno dalla percezione che abbiamo avuto chiaro è un campione relativamente vasto il nostro stiamo parlando tra tutti quelli che siamo usciti a ricontattare dei ragazzi che frequentano il centro una cinquantina di ragazzi però cominciano già a essere un numero abbastanza interessante è veramente passato qualsiasi tipo un'informazione dal medico che deve scegliere per far vivere per far morire ai bollettini medici dell'appuntamento delle bisognose feste con la protezione civile e tutte le informazioni che loro da soli da quello che è venuto fuori poi loro non hanno fatto assolutamente gestire così come era interessante il discorso che dicevi anche tu all'inizio queste case questi genitori figli che volevano i genitori un po' come diceva Marco con una qualità prima e prima non c'erano ma quando c'erano erano disponibili adesso ci sono sempre per un tempo molto disteso ma praticamente non sono disponibili eccetera eccetera noi ci siamo fatti un po' l'idea che una famiglia in realtà funzionare bene deve avere anche la possibilità di stare un po' distata come dire chi ha avuto soluzioni ognuno con le proprie eh sì perché se no veramente diventa molto è stato molto difficile per qualcuno affrontare le telefonate ovviamente questa cosa Arabella funziona per chi non vive in 60 metri quadrati no? esatto non è che non funziona funziona meglio perché si sta smistato cioè le famiglie per quanto bene si possono volere essere così addostate l'intervatore su 24 è complicato ma perché diventa complicata la gestione cioè i ragazzini che ci chiamavano per fare i compiti sulla chat con le montagne di roba da stirare sul tavolino di fianco cioè diventava veramente una roba una cosa abbastanza azusa e ci siamo resi conto che anche i genitori erano tantissimi molto molto stressati dalla situazione di dover seguire così tanto i figli anche dalla tutta scolastico quelli piccoli perché da soli non sono in grado di utilizzare neanche i mezzi in realtà quelli grandi che sono un po' più bravi però li usavano magari non in maniera corretta qualcuno li voleva pochi usare eccetera quindi è stato un periodo effettivamente anche per i ragazzi molto disorientanti molto disturbanti quello che ne esce in sintesi però secondo i loro racconti è che mentre prima davano per scontato la presenza degli amici in gruppo classe eccetera proprio mi è arrivato a dire mia bidella preferita e cose del genere e utilizzavano gli strumenti in maniera anche impropria ma come passatempo alla fine o come interesse senza neanche un grande scopo in questo momento si sono resi veramente conto che la grande differenza la fanno le relazioni cioè qualcuno ti dice sì la scuola via via chat eccetera non è la scuola vera è quello che diceva però Marco prima chi la conosce è la scuola vera chi si approccia adesso tu mi stai dicendo che magari questa emergenza e questa come dire scaturazione di un mondo virtuale può essere anche l'antidoto magari in un futuro per come dire per portare i ragazzi più fuori secondo me i ragazzi non vedono l'ora di uscire e trovarsi con i loro amici cioè hanno proprio anche un bisogno più in realtà di stare un po' all'esterno di muoversi in un spazio più grande dell'appartamento per quanto hai magari qualcuno al giardino eccetera ma quello che a loro manca è davvero il sono gli amici sono le persone quindi alla fine quello che fa la differenza è sempre la relazione tra le persone quindi la didattica è bella online è stata bella l'esperienza della classe virtuale è stata tutta bella ma per loro alla fine non è quello che vorrebbero ovviamente ma credo che sia anche e poi c'è quella che dicevi tu di tutti quelli che hanno la difficoltà ad accedere anche agli estetici che diventavano grandi luce diventavano quasi una serie di quello è un problema sembra che siamo arrivati a un'Italia pre-68 quando c'erano delle persone che avevano la possibilità di accesso agli studi e altre no e questa è una cosa su cui dovremmo fare i conti perché sfortunatamente le persone che sono rimaste indietro faranno avranno più difficoltà e saranno rappresentate perché perdere così un anno di scuola perché certi ragazzi e bambini non hanno proprio avuto l'accesso e questo è una cosa e sono tanti parlare il 30% è un grande numero e se lo dicono ti dicono che è tutto un se lo comunicano dicendo è tutto un la difficoltà perché ti dicono è tutto un gran caos non si capisce niente sei un po' una badela all'inizio non si capivano gli orari le modalità le cose chi diceva cosa chi dovevi dire se non avevi fatto i conti se li avevi fatto a chi dovevi cioè sembrava veramente che loro fossero colti da questa grandissima confusione gli adulti vicini difficili anche per loro di rimere l'attenzione insomma è stato un po' come un percepire che l'utilizzo dei mezzi è quasi come se per i ragazzi fosse un sentimento nuovo da sfruttare cioè alla fine non è stato solo un mero utilizzo ma ha mosso dentro un stratocchio una cosa che noi nel chico anche le giudatrici abbiamo chiamato sentimento perché non stavamo nemmeno noi come ci vuole dargli però alla fine un'emozione un sentimento davvero nuovo con la quale non avevano non avevano idea di come fare a relazionarsi a come dire a gestire certo è che la tecnologia ha funzionato quindi è stato un ombrello in questo grande caos quindi è un po' come quando il diluvio c'è l'ombrello in questo caso il caos era generale la tecnologia ha funzionato come ombrello ovviamente c'è una cosa che forse dovrebbe pensare subito il governo insieme a dare i vari soldi salvavita e magari mettere l'accesso internet gratuito a tutti in questo momento però poi si entra nell'ambito della politica e non nel nostro tema e voglio facciare una domanda veloce prima magari di lasciare la parola a Marco Boffi ma tu in questo momento come responsabile di un centro di aggregazione in un momento in cui parla di ritenziamento sociale c'è com'è che le attività del centro in questo momento si stanno svolgendo sono tutte cioè come funziona allora le attività in presenza sono tutte ferme sono attive solo quelle online sono in ciapo comunque al telefono perché sentiamo i ragazzi li abbiamo aiutando per i conti stiamo aiutando tuttora per i conti di quelli di terza media per le tesine è lì che è venuto fuori per esempio lavorando con i ragazzini di terza media per le tesine ora facendoci raccontare da quelli che devono fare la maggiorità è lì che è un po' il discorso che ci siamo rete conto che salteranno dei ripartamenti che sono comunque importanti quindi questo esame sì adesso loro lo vivono un po' con l'ansia dell'esame ma non sarà la stessa cosa quelli della maturità è l'esame della vita forse peggio perché si è laureato e forse peggio che quello della tesi io ancora lo sogno esatto tutti ce lo sogniamo ancora io ho fatto una cosa che voi non avete nemmeno fatto un esame che voi nemmeno avete fatto è una persona anagrafica meramente anagrafica ma banalmente su parte al telefono ce lo dicevamo i ragazzi delle superiori vuol dire non fare nemmeno la vacanza della maturità che è un'altra cosa che tutti i sogni quindi è una sono tante difficoltà comunque tornando a quello che noi facciamo in realtà lo stiamo facendo comunque a distanza perché questo era previsto proprio oggi mi sono interfacciata anche con l'assistore del sociale della comunità milanese perché inizieranno dei tavoli di ragionamento su cosa si potrà fare se c'è un gestivo sono uscite ieri le direttive precise per cui si potrà inventare qualcosa per far fare ai ragazzi dell'esperienza al di cuore della casa tornare a socializzare tornare a una sorta di normalità con tutte le attenzioni necessarie e per vedere in conto anche le famiglie che dall'altro canto o tornano a lavorare quindi sono fuori casa oppure se hanno un'attività che viene insomma difficile conciliare il suo lavoro con il bambino che deve fare i conti che viene continuamente non mi ricordo com'è la narizia grammaticale del verbo eccetera eccetera quindi faccio anche in questo momento come dire un servizio alla comunità soprattutto di Nova Milanese chi magari non conoscesse questo centro spazio vita è un genitore che magari ti troverà a vedere sui nostri social la nostra registrazione il nostro video di se ha problemi o comunque vuole avere un supporto alla famiglia ai propri ragazzi di contattare associazione spazio vita o magari Arabella Ambivieri magari facciamo anche un servizio alla comunità per chi magari non conosce questo centro e ne approfitto a questo punto che secondo me cade anche a pennello cioè quando le cose praticamente funzionano perfettamente per dare la parola a Marco Boffi che quando l'avevo già detto all'inizio l'avevo invitato per questo incontro ovviamente mi ha detto io non mi occupo di bambini ma sto conducendo una ricerca sull'identità di luogo e sull'attaccamento ai luoghi ora questa cosa mi sembra che si può assolutamente declinare anche in questo in questo nostro appuntamento o riflessione quindi Marco senza nessun indugio ti lascio la parola sì in effetti sentendovi parlare in realtà avete in modo più o meno implicito fatto più o meno esplicito fatto riferimento a tutta una serie di aspetti che riguardano i luoghi poi posso dire un po' in secondo piano perché giustamente in questo periodo adesso fermarci molto sull'aspetto di relazione con con gli altri con i parenti con gli amici o con i nostri pari però negli esempi che facevate che facevano sia Arabella sia Marco si faceva riferimento ad alcuni luoghi specifici come può essere la scuola l'asilo o anche l'esempio della casa del bambino che fa lezioni da casa con il cumulo di panni accatastato sull'orecchio queste sono tutte riflessioni che io sto facendo con alcuni colleghi appunto non occupandoci nello specifico di bambini ma ragionando sull'attaccamento di luogo che è un concetto su cui lavorano da anni gli psicologi che sostanzialmente cerca di descrivere quel tipo di legame che ciascuno di noi sviluppa con i luoghi significativi della propria vita cioè l'idea di fondo è che noi abbiamo delle relazioni e sviluppiamo un attaccamento con alcune persone importanti nella nostra vita tipicamente i genitori ma in generale tutte quelle figure che ci accudiscono e che quindi sono quelle persone che si prendono cura di noi verso le quali sviluppiamo un affetto particolare e sono quelle persone dalle quali ci separiamo ma a cui poi ritorniamo o alle quali è importante sapere che possiamo ritornare trovare accoglienza accudimento conforto in alcuni momenti l'idea è che lo stesso tipo di relazione in realtà noi la instauriamo con una serie di luoghi che ci circondano che possono variare molto di scala questo tipo di attaccamento lo possiamo sviluppare con la nostra con la nostra cameretta con la con la casa in cui siamo cresciuti con la via con il quartiere è un concetto che può essere replicato a diverse scale ma di fondo il principio è che è importante che noi nella nostra vita riusciamo a fare esperienza di una serie di luoghi all'interno di una serie di esperienze importanti e formative per noi alcune che possiamo fare più in diciamo in autonomia in solitudine altre invece che facciamo in condivisione con gli altri per cui il luogo dove noi instauriamo delle relazioni con quelli che saranno poi i nostri amici storici nel corso della vita il luogo dove conosciamo il fidanzato dove facciamo anche dei passaggi importanti prima la maturità la maturità l'esame di maturità non è un esame che avviene nel vuoto ma avviene in un luogo specifico che spesso è caricato di affetti di aspettative allora tutto tutti questi questi temi naturalmente in questo periodo hanno subito uno scossone nel senso che uno dei concetti delle idee di base di luogo è che io mi attacco a un luogo e cerco di mantenere il più possibile vicinanza e prossimità con questo per me è importante un luogo nel quale io cerco di tornare stesso vedere i miei amici in una chat o su Zoom o quant'altro o incontrarsi sulle scale della scuola che frequentiamo o incontrarci nella piazzetta dove ci troviamo di solito allora la riflessione è fare attenzione anche a che tipo di conseguenze avrà questo allontanamento forzato che c'è stato e anche come verrà gestito tutto il post noi abbiamo già visto che legittimamente da parte delle istituzioni ci sono tutta una serie di vincoli adesso nel ritornare a utilizzare gli spazi pubblici i parchi in particolare le aree gioco per i bambini che sono ancora quantomeno nella zona di Milano delle zone particolarmente critiche però tutto questo naturalmente avrà un impatto sul tipo di relazione che i bambini instaurano con il loro quartiere la loro città noi sappiamo ad esempio che le persone che sono costrette per vari motivi tipicamente studi su persone che per motivi di salute restano lontane da casa per periodi lungati sono delle persone che poi nel corso della vita sviluppano un particolare bisogno di ritornare nella casa di origine nella casa natia e di mantenere una vicinanza Allora una situazione come quella che stiamo vivendo è eccezionale è difficile trovare dei riferimenti precedenti nella storia però c'è da chiedersi quali potranno essere le conseguenze di una situazione come questa e sarà importante accompagnare i bambini non solo a aiutarli a ritrovare un modo più naturale più spontaneo di relazionarsi con gli altri che non sia attraverso la mascherina ma anche un modo per ricominciare a vivere gli spazi senza l'ansia di non poter toccare qualcosa o non poter incontrare gli amici in un luogo specifico Ricollegando il discorso che ha fatto Marco Noara dal tuo perché Marco poneva più l'accento fondamentalmente su bambini che in qualche modo sono così piccoli che stanno in qualche modo avendo un imprinting in questo momento mentre al bambino o al ragazzo gli si spiega la situazione e come dire in questo momento se baci il nonno o se vai a scuola o se giochi al parchetto non si può fare perché ti crea dei danni però poi dopo si potrà fare mentre tu fondamentalmente il tuo discorso è secondo me anche rispetto ai miei studi non è soltanto su bambini molto piccoli che stanno affrontando questi mesi e perciò avranno queste imprinting ma anche su qualsiasi persona si può anche applicare agli adulti che soprattutto magari i bambini comunque questo distacco da questi luoghi avrà comunque ci saranno delle conseguenze ma ci sarà anche una generazione 2.1 di ragazzi? la realtà che non so non so però allora innanzitutto questa situazione in realtà io mi immagino che possa avere comunque delle conseguenze anche sui bambini più piccoli cioè tutto questo aspetto di attaccamento a un luogo è chiaro che passa da un'esperienza diciamo diretta di frequentazione del luogo e di svolgimento di una serie di attività o di passaggio attraverso una serie di momenti importanti in quel luogo ma viene anche attraverso il racconto e la condivisione banalmente se se io non in famiglia non non sento racconti di un'epoca in cui ero troppo piccolo magari per ricordare in prima persona in cui però i nonni o i miei genitori mi raccontano di quella volta che siamo andati nella piazza tra l'Italia o nel giardinetto o non vedo mai foto di me che gioco con i miei genitori quando erano giovani in quel determinato spazio quel luogo non entra a far parte della mia identità e quindi c'è il rischio di crescere avendo un attaccamento che è sostanzialmente circoscritto alla propria sfera casalinga e di perdere un po' che perda rilevanza tutta la parte di quartiere tutta la parte pubblica che poi è quella che mi riconnette con gli altri sto enfatizzando l'aspetto però se la situazione si dovesse prolungare o se comunque anche tornate a una vita meno reclusa di quello che è stato finora ci dovessero essere tante limitazioni possiamo immaginare che ci possano essere delle conseguenze da questo punto di vista considerate che in questo senso il concetto di attaccamento non viene considerato attaccamento solo come luogo fisico ma attaccamento a un luogo inteso come spazio fisico dove però io ho delle relazioni di comunità quindi la possibilità di un indebolimento rispetto al ogni parte di una comunità sempre ogni parte di una cerchia più ampia che condivide un luogo degli interessi dei principi e dei valori può essere uno dei meccanismi che si possono immaginare in una situazione del genere Marco Nuora per caso rispetto a questo intervento di Marco Boffi vuoi aggiungere qualcosa o sono cose che ti sono risultate nuove o che già magari invece conoscevi e masticate perché un pochino i vostri due interventi mi sembra che sono molto vicini però in qualche modo c'è una visione cioè se vuoi con delle sfumature un po' diverse per questo ovviamente sto chiedendo a te anziché ad Arabella proprio perché tutte e due avete un po' toccato la stessa cosa però ci sono state un po' due posizioni come dire un po' sì dicevo bene prima Arabella quando diceva che ogni età un pochino ha le sue criticità i miei figli io ho esperienza dei bambini più piccoli che sono quelli che magari seguo ambulatorialmente oppure dei miei figli che hanno 9-11 anni e questi sono in vacanza cioè per loro le vacanze estive sono cominciate prima per cui fanno un po' i compiti come se fossero i compiti delle vacanze hanno questo tipo di rapporto con l'insegnante in videoconferenza che però nulla a che fare con una lezione frontale e se già può non essere particolarmente coinvolgente una lezione frontale figurarsi una lezione attraverso lo schermo oltretutto poi loro possono chattare fra di loro possono chiudere la telecamera perché vabbè fanno delle robe che sarebbe come stare a fare lezioni in classe con il telefonino in mano che ci siano o non ci siano poi in realtà che cosa pensano lo sa Dio io penso che comunque quello che manca in questo momento dal punto di vista della didattica non tanto del rapporto è che ci siano invece dei programmi interattivi cioè che ci sia la possibilità di fare delle lezioni interattive ma non interattive con una persona interattive con il device in modo che il bambino sia coinvolto nell'attività perché in questa maniera qui in realtà loro si confrontano con l'insegnante o con i compagni per un'oretta per due orette e poi dopo devono fare i compiti a casa e questo vabbè appunto li fa vivere un pochino i miei figli non vivono granché questa situazione di stress uno lui non è sportivo per niente per cui non gli manca certo movimento lui è un nerd per cui l'idea di poter stare a casa con i device per lui è massimo poteva desiderare di meglio se potesse desiderare un'altra pandemia la desidera la sorella meno ma essendo in pre-adolescenza lei piace comunque guardare in social o tutti i telefilm dedicati agli adolescenti e le tv anche per lei è il massimo io penso che il problema appunto sia nei bambini più piccoli oppure nell'adolescente vero cioè nell'adolescente vero quello che almeno per quello che me lo ricordo io poi non so se adesso gli adolescenti sono come quelli che eravamo noi era quello di praticamente non stare mai a casa e stare sempre in giro e stare sempre con gli amici ecco cosa che appunto bambini dell'età dei miei quindi degli elementari non gli ha ancora consentito di andare in giro da soli o di trovarsi con gli amici magari tutti i giorni in piazzetta o o dall'amico o uscire di casa da soli a fare il giro in bicicletta a fare il giro a piedi ecco l'adolescente in questo momento sicuramente sta vivendo un'adolescenza un po' un po' strana con degli ormoni poverini un po' castrati e se poi pensi io ho visto un intervento che parlava della timidezza se tu pensi che chi è timido in questo momento oltretutto non ha la possibilità di un rapporto diretto e quel rapporto diretto deve essere a distanza è ancora più difficile diventa tutto più difficile e adesso stiamo invogliando a maggior ragione l'utilizzo dei rapporti attraverso i social o attraverso comunque i device cosa che fino a due mesi fa tre mesi fa per carità di Dio ma tu devi entrare in contatto con quella persona ma non attraverso il video ma anche perché io non lo so poi non mi occupo però a quanto pare poi le attrazioni le amicizie c'è anche una questione noi ci sentiamo degli odori ci sprigioniamo delle come dire in realtà e secondo me già gli adolescenti un po' ci erano abituati però certo avevano la libertà di dire però a un certo punto io anche la mamma e papà li sopporto fino a un certo punto poi prendo e vado a trovare i miei amici ecco questo adesso non lo possono fare va bene fino adesso non l'hanno potuto fare adesso si spera che abbiano la voglia di uscire una cosa importante che tu hai detto è quello su la questione della didattica oltre al fatto che già abbiamo un po' detto prima che c'è il problema chi arriva e chi non arriva il fatto è che non possiamo adattare una didattica vecchio stampo a questi strumenti cioè bisognerebbe proprio riformulare una didattica perché se no abbiamo degli strumenti zoppi e con una didattica riformulata e ripensata alla luce di questi strumenti forse ovviamente alla luce del fatto che tutti devono accedere a internet ai device forse le lezioni sono un po' cioè andrebbero un po' diverse e prima oggi prima di connettervi con voi guardavo una video intervista di una sociologa che in realtà lei non era per niente come dire allarmata rispetto alla questione lezioni col device anzi diceva che per gli italiani potrebbe essere che questa cosa fondamentalmente sta insegnando alla didattica italiana una dimensione meno frontale del rapporto alunno insegnante cosa che magari già in Europa c'è più praticata e che molto probabilmente un tipo di lezione di andare a scuola potrebbe essere attraverso i ragazzi col computer guardano le lezioni e poi la scuola diventa il luogo dove si fa i compiti il luogo del laboratorio proprio perché in qualche modo l'idea della lezione proprio verticale il professore che parla come dire l'alunno che ascolta è una cosa che non c'è bisogno di essere in aula mentre magari in aula si possono fare altre cose si può creare invece una una lezione più partecipativa e quindi lei diceva ok ovviamente questa cosa che è successa non è una cosa bella però prendiamo una buona opportunità per ripensare magari la nostra didattica e quindi per scardinare determinate gerarchie delle metodologie ovviamente se questa situazione si prolungherà e se magari il prossimo anno ci troveremo ad essere chiusi a casa fuori cioè con una specie di intermittenza assolutamente la didattica dovrà in qualche modo prendere la sfida di adattarsi a uno strumento come tutto più interattivo possono essere pure dei giochi io io mi occupo cioè di arte e in questo momento ci sono alcuni esperimenti di interviste di talk che vengono fatti dentro giochi tipo The Sims perciò sono interattivi e tu sei all'interno di un gioco con un avatar banalmente ed è molto interattivo per i bambini che hanno dei bisogni speciali è già previsto l'utilizzo per esempio dei device e ci sono anche la possibilità appunto di fare delle attività interattive a computer e poi di avere dei punteggi e quindi di avere la possibilità anche di raggiungere degli obiettivi e quindi essere anche motivati a fare un punteggio e raggiungere degli obiettivi e uno ti insegna anche l'utilizzo del device perché comunque pensare che un bambino nel 2020 non sia capace poi a casa se c'è una disposizione sono capaci ma comunque che non debba confrontarsi con l'utilizzo di un computer o di un tablet è anche assurdo è anacronistico per cui anche insegnargli a utilizzarlo mi sembra che nella maniera corretta e di poterlo utilizzare anche per istruirsi mi sembra stimolante assolutamente mi permetto solo di dire che anche qui dipenderà molto dal senso di responsabilità di noi adulti perché alla fine il corpo docente è formato da adulti sono loro i primi che devono scegliere di continuare a formarsi riaggiornarsi imparare perché tantissimi dei docenti anche avere a volte l'imilità di imparare dai loro studenti come si utilizzano le cose eccetera non sempre è così sicuramente questa questa necessità ha dato una come dire una spinta verso per amore per forza dobbiamo imparare volevo solo dire una cosa di collegare invece a quello che diceva Marco Moppi sull'attaccamento ai luoghi che è esattamente quello che noi viviamo nei discorsi dei ragazzi di questi mesi quando si dicono che ci manca venire in associazione manca lo spazio fisico di dove si trovavano che non è casa loro che non è la scuola ma è un posto loro che alla fine un po' hanno arredato loro hanno aiutato a finire in ordine hanno aiutato a pulire hanno potuto appendere delle loro cose eccetera quindi che non è solo uno spazio fisico è uno spazio di relazione è uno spazio di esperienza quindi quello che a loro manca è anche quando ti dicono uscire con gli amici tanti ti dicono ci manca andare all'albero che è un luogo di nuovo ha ben identificato e vuol dire che si trovano in quel posto dove c'è questo albero stanno lì se non posso dire le parolacce però come dire al far nulla piacevole pubblico dei ragazzetti ma che è un luogo fisico emotivo di relazione eccetera che è solo loro lì non è una cosa è una differenziazione dalla loro famiglia mentre adesso era veramente in questo senso dicevo la famiglia va un po' distanziata va un po' tristata per essere per essere ancora criticate lì invece questi genitori giornate infinite la famiglia sta insieme sempre ed è stata una difficoltà in più a volte una risorsa ma per gli adolescenti anche un po' la difficoltà io non voglio adesso perché comunque siamo in chiusura a buttarmi in dispedizione filosofiche però magari Marco Boffi qualcosa questo accenno magari avrà un'illuminazione però io penso che anche questa situazione rispetto a se noi incontriamo le persone costantemente in questa dimensione io guardo lo schermo c'è zoom c'è internet al massimo mi sposto dal divano al letto però fondamentalmente la questione è sulla memoria in materia e memoria di Bergson si parlava del dispositivo quasi emotivo della memoria il fatto che questo sembra il giorno della marmotta quei giorni tutti uguali che si ripetono e può essere che a distanza di tempo si perda la memoria e la concezione del tempo perché tutti i giorni ma non tutti i giorni perché facciamo le stesse cose perché proprio è una dimensione della memoria che non si attiva emotivamente perché anche la lezione in classe c'è il compagno che butta la sedia che piange quello che puzza quello che fa una magagna la bidella che entra io i ricordi che ho della scuola sono ricordi legati proprio a delle cose che succedevano a degli sketch poi tutto il resto diventa come dire quel rumore grigio e quindi penso che un'altra cosa può essere anche un problema anche poi di memoria vedo Marco annuire boffi giusto? Sì no assolutamente perché in realtà tu stai dicendo diciamo con parole diverse però è tutto quel tema che accennavamo anche prima di come poi tutto questo rapporto con i luoghi entra a far parte della nostra identità ciascuno di noi per definirsi fa riferimento a tante parti della propria identità che messe insieme vanno a comporre il sé per cui ciascuno di noi è figlio di è fratello di è connotato dai propri studi dalle proprie passioni è un chitarrista è un uomo è una donna e ciascuno di noi attribuisce maggiore o minore importanza a questi aspetti ci sono quelli per cui aver fatto un certo percorso è molto importante diventa un elemento caratterizzante quelli per cui invece non lo è invece è importante non so gli interessi legati alla musica all'arte tra tutte queste componenti dell'identità la parte spaziale anzi la parte di luogo è una parte importante cioè per alcune persone il fatto di essere di nova è un aspetto importante della propria identità ma se io non ho la possibilità di fare delle esperienze significative con gli altri in un luogo condiviso quella parte della mia identità ha meno occasioni di svilupparsi di crescere di diventare una parte anche ricca importante della mia identità si atrofizza un pochino che non vuol dire che allora io sono vuoto e non ho altre parti di identità da sviluppare certo ce l'avrò gli strumenti tecnologici ci offrono comunque uno spazio diciamo appunto virtuale per creare momenti condivisi però il fatto che questo spazio sia virtuale cambia un po' le cose e allora se io non ho più quel luogo fisico concreto che minisce gli altri allora cambia anche nel corso del tempo la memoria collettiva se un'intera generazione è l'albero fisicamente attorno a cui ritrovarsi per giocare per dire le parolacce per avere i propri momenti di indipendenza e di autonomia ma questo spazio è solo virtuale allora un domani avrò una generazione che magari sarà meno interessata a prendersi cura di quell'albero e sarà meno sensibile rispetto a creare per per le generazioni successive dei luoghi fisici dove poter fare queste esperienze perché si sono trasferite sul virtuale poi l'uomo inteso come essere umano ha una grande resilienza e si adatta a tanti contesti però una riflessione su quale potrebbero essere le conseguenze sulla memoria collettiva su come noi ci pensiamo in relazione agli altri e su cosa succederà soprattutto agli spazi pubblici è importante farla e io sono d'accordissimo con quello che dicevate voi che in qualche modo come dire anche da una situazione così critica possono uscire aspetti positivi perché poi l'inventiva umana per la sopravvivenza trova sempre nuove soluzioni però se non c'è un momento di riflessione di consapevolezza e di progettazione consapevole e si lascia solo all'improvvisazione del singolo e il fatto di trovare degli escamotage per uscire da questa situazione di emergenza beh allora si torna al discorso che si faceva ci saranno ampi strati della popolazione che pagheranno un carissimo prezzo per questo questa improvvisazione continua e ci sarà poi una parte invece fortunata che tutto sommato ne uscirà un po' meglio e per questo che insomma dei ragionamenti su come ridurre l'impatto di una situazione del genere su come affrontare possibili nuove sarebbe importante che venisse fatto a livello di sistema e non lasciato alla buona volontà del singolo esatto grazie Marco allora in realtà tra un po' stiamo in chiusura quindi se per caso qualcuno che è qui con noi connesso su Zoom perché la peculiarità di Zoom è il fatto che è un po' interattivo quindi chi è con noi può anche o fare una domanda o rispondere o comunque lasciare la propria testimonianza quindi magari i meno timidi che hanno voglia di fare delle considerazioni possono farlo magari scrivendo in chat posso io così vi smutiamo smutatevi e parlate c'è Magda Rossi o Luigi Rossi o Marta o Giovanna o Patrizia o la stessa Marta mentre voi vi come dire trovate il coraggio di salutarci o dirci qualcosa cioè ne approfitto anche per dire che questi incontri oltre al fatto che aver registrati però c'è una ci tengo molto magari in qualche modo a trascrivere degli estratti di queste conversazioni per provare a fare un lungo testo quasi una scrittura collettiva che diventi poi un unico testo dove magari potrà diventare un ebook o potrà diventare una testimonianza una testimonianza da lasciare quindi sappiate che tutto quello che avete detto sarà poi trascritto su carta bianca io non so lotterò per farne insieme a Rossi una pubblicazione anche solo in digitale c'è qualcuno che vuole parlare per caso magari Luigi vuole salutare o Magda o Marta Luigi ci saluta ma non ha dovuto uscire per problemi di lavoro ok vabbè ma non vuole parlare nessuno perfetto allora mi approfitto mi dispiace parlare sempre io che sembro un po' una narcisista vi anticipo che il prossimo incontro al 99% sarà sabato 30 maggio e avremmo sarà dedicato un po' una prospettiva politica e con noi ci sarà Marting Guevara Duarte che è uno scrittore intellettuale non è nipote del CE Guevara e Fernando Garcia Barros che è un professore di storia dell'arte in Università in Bolivia e poi Elia Kik che è un cofondatore di una rivista QR Code Magazine molto politicizzata e affronteranno diciamo questo stesso tavolo che abbiamo fatto oggi dalla prospettiva dei bambini però da una prospettiva più magari politica ovviamente io penso che alla fine di tutti questi incontri si arriverà al bandolo della matassa perché un po' il gioco di queste staffette era quella vediamo un attimo a prendere questo prisma e a guardarlo da più sfaccettature diverse non soltanto rispetto a bambini e anche posizioni lavorative dopo ci sarà anche il gioco ma anche banalmente legato a geografie diverse perché quello che stiamo vivendo noi in Italia in altri posti del mondo lo stanno affrontando in un altro modo giusto per fare un esempio in Asia è anche molto normale tenere la mascherina mentre per noi è una cosa un po' inaudita quindi loro sono abituati a uscire e tenere la mascherina come ad esempio negli Stati Uniti le persone non sono abituate a toccarsi e abbracciarsi quando si incontrano mentre per noi quello che è il distanziamento sociale quindi non avere un contatto fisico ha una portata diversa o banalmente quando ho avuto una call con Magda Rossi lei ha detto in questo momento lei è italiana ma lavora in Bolivia mi ha detto guarda Simona per noi la situazione ovviamente è in drammatica come può essere drammatica da qualsiasi parte ma in Bolivia sono così tanto abituate le persone a vivere una situazione di stabilità che comunque la vivono in un modo diverso siamo appena usciti da quasi una guerra civile poi è arrivato il Covid quindi l'idea anche di questo progetto è anche un po' di far vedere delle prospettive dove noi vediamo magari nero altri vedono giallo e poi ci si incontrerà in un luogo forse comune ecco se nessuno vuole dire niente non so ci salutiamo sempre è un po' brutto chiudere la conversazione voglio salutare anch'io buonasera ecco il dibattito è stato molto interessante si va per piccoli pezzi per piccoli azioni o letture del problema dovremmo cercare di fare o di proporre o di mantenere una sintesi di questo lavoro che non si esaurisce qui come diceva Simone ma ha veramente la capacità di entrare in interstizi del nostro pensare del nostro essere del nostro vivere con gli altri facendosi vedere delle sfumature e dei grigi assolutamente non usuali cioè stiamo parlando di cose assolutamente diverse o con prospettive molto diverse rispetto a quelle di cui parlavamo due mesi fa abbiamo la tendenza a ritornare come prima ad ancorarsi al nostro passato che ci dà sicurezza ma siamo costretti a ragionare per ore di cose che non sono ancorate al nostro passato non sono ancorate la nostra socialità conosciuta ma sono elementi di meditazione di evoluzione di crisi rispetto a quello che stiamo vivendo io sono tornato al lavoro in questi giorni e ho tentato di riprendere i soliti ritmi la stessa posizione della scrivania lo stesso modo di lavorare di disporre le carte di vedere i problemi ma non è così emerge anche un modo diverso di lavoro cioè non si lavora come prima non si lavora meglio anche questo bisogna dirlo quello che manca al lavoro di tutti i giorni tutta la gente dice ho lavorato molto di più ma la mancanza di socialità ci fa lavorare ci stanca molto di più il lavoro è meno creativo ognuno di noi è stato in casa tre mesi in casa piena di libri e sono sicuro che pochissimi sono riusciti a leggere almeno da quello che mi riferiscono o a lavorare e questo fa pensare il lavoro fa fatica ad andare avanti perché la creatività è fatta di relazioni diverse da quelle che eravamo abituati a fare e comunque non è che scomparsa la creatività fa fatica a emergere con queste nuove condizioni se questo succede a noi per i bambini è incredibile cioè voglio dire è incredibile cioè quello che succede a noi che siamo un po' più coscienti per i bambini è impattante in maniera credo ho parlato troppo volevo ringraziarvi personalmente di tutto speriamo di incontrarci per una birra che ne abbiamo tutti bisogno guardandoci anche attraverso senza mascherine perché questo è un po' la speranza di tutti perché così dobbiamo altrimenti diventa veramente tutto molto più difficile grazie ancora arrivederci grazie grazie Luigi effettivamente come dire un altro step di questo progetto potrà essere quando potremmo stare tutti quanti in una stanza unica fare un bel seminario un incontro tutti quanti e poi magari andare a trovare un ambulatorio in ospedale il dottor Nuora allora se nessuno vuole parlare direi che abbiamo un po' sforato anche il tempo ma la conversazione diciamo ne valeva la pena quindi chiudo vi saluto e vi do comunque appuntamento se volete connettervi a sabato 30 maggio e vi do